La necessità di deburocratizzare fondi comunitari e quindi la capacità di spesa della Regione, quale è la sua interpretazione di questo scenario? Intanto va dato merito alla Presidente nel passato, nei mesi passati quando c'è stata l'emergenza di aver fatto emergere una Regione differente rispetto al passato e questa è una cosa a cui secondo noi va dato merito perché ha saputo far emergere una passione, un orgoglio anche nostro regionale che in passato non era mai emerso. È ovvio che non basta, è ovvio che i fondi comunitari sono fondamentali, utilizzarli al meglio è un dovere per noi, abbiamo un compito e una responsabilità indicibili perché per la prima volta un'amministrazione di centrodestra realizza un proprio programma di intervento per sette anni e poi lo gestisce, cosa che non era mai successa nel passato e quindi abbiamo una responsabilità doppia, tripla se vogliamo, nel senso che dobbiamo riuscire a concentrare la realizzazione e la programmazione di questi fondi su pochi interventi per riuscire a realizzare delle infrastrutture e delle cose che effettivamente lasciano un segno sul territorio e servano per lo sviluppo vero e in più utilizzare anche questi fondi che è una cosa che lei, la Presidente, ha già iniziato a fare per migliorare la nostra immagine, non solo creando il brand Calabria che riguarda il turismo, l'agroalimentare, la cultura ma proprio con una serie di iniziative che vogliono mirare a questo. Sul fronte della deburocratizzazione è un tema quello complicatissimo, è ovvio che l'utilizzo dei fondi complica un po' la faccenda, non la semplifica perché l'utilizzo dei fondi è molto complicato, quindi ci sarebbe da rivolgere questa domanda agli uffici dell'Unione Europea perché in passato hanno fatto degli interventi e delle procedure così complicate che hanno effettivamente paralizzato le amministrazioni ma non solo la calabrese, quindi ci sarebbe da auspicare che intanto la Commissione semplifichi molto l'utilizzo dei fondi, non solo la programmazione ma anche l'utilizzo dei fondi, ma poi anche noi sappiamo reagire come Regione migliorando le nostre competenze, acquisendo professionalità e laddove non ci fossero all'interno per riuscire a gestire al meglio questi fondi per raggiungere gli obiettivi. Alcuni suoi colleghi ci hanno fatto un quadro di questa iniziativa quasi nuovo, come se fosse un pochino la prima volta che si creano dei tavoli di concertazione così ampi che coinvolgono sindaci, oggi domani tavoli di lavoro con il partenariato. Anche lei ha questo tipo di impressione, cioè c'è un cambio di passo grazie alla Santelli su questo fronte? Sì, mi sembra proprio di sì, cioè in passato non è che non siano stati fatti i tavoli di partenariato per la programmazione comunitaria, ma sono stati i tavoli che hanno prodotto molto poco a mio modo di vedere e anche perché se si vedono poi i risultati, cioè i programmi che sono venuti fuori sono stati programmi praticamente non realizzati o realizzati con percentuali molto basse e che non hanno dato, non hanno lasciato niente sul territorio. Per cui il fatto che oggi si facciano dei tavoli di carattere politico oggi istituzionale con anche la minoranza che ha un segno, è un segno importante e poi si facciano anche dei tavoli domani con gli stakeholder, i sindacati, i datori di lavoro, quelli che insomma si occupano dell'occupazione, della creazione del lavoro, è un segnale molto importante che credo sia necessario per avviare nel modo giusto la programmazione che si dovrà concludere in tempi rapidi.